Don Josue Lombardo, parroco della Basilica di Santa Croce, siamo nella Settimana Santa, inizia il Triduo Pasquale. Ecco la celebrazione della Quaresima con i 40 giorni ci ha preparati come popolo di Dio alla celebrazione della Pasqua di quest'anno. Siamo all'ingresso nella grande settimana, che viene chiamata anche la settimana maggiore, perché grandi sono i misteri della nostra salvezza che in essa celebriamo. Iniziamo giovedì l'istituzione dell'Eucarestia, l'istituzione dei sacerdoti e del comandamento nuovo dell'amore. Al pomeriggio alle 18.30 celebriamo la messa in cena domini con la lavanda dei piedi a 12 adolescenti che a Pentecoste riceveranno il sacramento della Cresima. Insieme a tutto il popolo di Dio parteciperanno gli adolescenti che faranno la Cresima e i bambini della prima comunione di quest'anno che saranno presentati alla comunità. Dopo la celebrazione inizia il tempo di adorazione, due momenti, dalle 21 alle 22.15 col coro Adoro Te e dalle 22.30 sino a mezzanotte e anche oltre la veglia di preghiera con i giovani. Venerdì il giorno del grande silenzio, il re si addormentato come dicono i padri della Chiesa. Al mattino alle 8.30 l'ufficio di letture, alle 9.30 le lodi, 10.30 la preghiera dei fanciulli intorno alla croce, alle 17.30 la celebrazione della passione del Signore e l'adorazione del crocifisso. E poi come dico ai miei parrocciani, poi dopo corriamo a casa perché spiritualmente attraverso la tv dobbiamo pregare la Via Crucis in comunione con Papa Francesco. Sabato Santo al mattino alle 9.30 le lodi e l'ora della madre. Ci metteremo accanto a Maria per attendere la risurrezione gloriosa del suo figlio. A sera alle 20.30 cominciamo la solenne veglia di Pasqua nella quale celebriamo il sacramento del battesimo, accendiamo il fuoco nuovo, il cero e la solenne eucaristia in onore del Signore risorto. Auguro a tutti di entrare col fervore della fede in questi giorni oscuri e luminosi della passione della croce e della risurrezione gloriosa di Gesù. L'augurio lo faccio con un'espressione di Thomas Merton che mi è molto cara. Ogni scelta che ci fa liberi è una risurrezione di Cristo nella nostra vita. Ognuno di noi ha un pezzo di cuore che ancora non è libero. Nel cuore di tanti potenti non c'è ancora la libertà dello spirito dove vengono oppressi gli umili, dove tanti bambini e innocenti muoiono ancora sotto le bombe, dove ancora non c'è una giusta ripartizione dei beni di questa terra. Ecco l'augurio della Pasqua che diventa invocazione al Signore, supplica. Ogni scelta che ci fa liberi è una risurrezione di Cristo nella nostra vita. Buon cammino con il crocifisso risorto. Grazie. Grazie a tutti.